ciao a tutti oggi prepareremo le polpette di ricotta il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa ingredienti sono ricotta fresca parmigiano aglio prezzemolo sale pepe noce moscata pangrattato aromatizzato e uova diamo il via la ricetta siamo alla ricetta tendo all'interno del boccale il prezzemolo l'aglio e il parmigiano e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10 finiamo sul fondo del boccale adesso aggiungiamo la ricotta l'uovo il pepe la noce moscata il sale e il pangrattato aromatizzato chiudiamo con il coperchio e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 4 il composto è pronto adesso formeremo le polpette il composto risulterà appiccicoso per cui ci aiuteremo a formare polpettine bagnandoci le mani con dell'acqua prendiamo una parte del composto formiamo le polpettine le passiamo nel pangrattato aromatizzato e poi le andremo a cuocere e proseguiamo così fino a terminare tutto il composto di ricotta una volta composte le polpette adesso le cuoceremo possono essere cotte o fritte in padella in olio bollente fino a quando non saranno dorate oppure cotte in forno a 180 gradi per 15 minuti circa polpette di ricotta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti